Siamo qui nel nostro negozio Quick Easy Shop, siamo degli amanti della montagna, quindi anche della mountain bike. In questo negozio si possono comprare accessori, abbigliamento, bici trekking del brand Scott. Abbiamo anche un noleggio di biciclette, bike o anche bici muscolari. Abbiamo deciso di collaborare con questo bellissimo evento che porta tanta gente e tanti appassionati della montagna e della bici qua nelle nostre zone, sperando che si siano tutti trovati bene e si siano divertiti. Vi auguro a tutti un buon proseguimento e vi invito a passare in negozio a trovarci. Grazie a tutti.